La bellezza può dare alla testa. Io ho 71 anni suonando. Tu stai lì con la tua pelle di 22 anni e due tette dure come sassi. Fai una potente carica sessuale. L'acido. Vada a quello che dice, non sono più disposta a sopportare. Bruce Willis, Goldie On, Meryl Streep. È un miracolo! La morte ti fa bella. Domani sera alle 21 su 27.